Sua Maria Celina, domani cadono gli 11 anni della vostra presenza qua a Cremona. Facciamo un bilancio. Penso che il bilancio possa essere più che positivo, nel senso che a distanza di 11 anni dal 2007, ormai l'inserimento in città e in diogesi è consolidato. Abbiamo trovato fin dal nostro inizio tanta simpatia e tanta benevolenza da parte dei cremonesi, una benevolenza che è rimasta costante nel tempo e che perdura tuttora. Notiamo nei nostri confronti molte manifestazioni di volontariato, disponibilità al servizio, attenzione e rispetto per la nostra vita da parte di tanti. Per esempio, quando andiamo all'ospedale è ovvio che non fanno preferenze o precedenze, però ci accolgono sempre con molta simpatia, con molto rispetto. Se abbiamo necessità di qualcosa in farmacia, in un negozio, se c'è bisogno di andare a fare qualche spesa, ci sono persone che si prestano. Per ogni nostra necessità, in silenzio, senza far pubblicità, però i cremonesi ci vengono incontro. E di questo siamo molto riconoscenti. Al di là di questo, la nostra presenza è una presenza di preghiera e credo che sia stata colta questo richiamo che il nostro essere qui pone dell'esistenza di Dio. Le persone ci accostano alzando il loro sguardo verso il cielo, verso le cose eterne. Domani ci saranno delle celebrazioni. Com'è il programma? Il programma inizia questa sera con i primi Vespri della Vigilia dell'Immacolata. Questa sera i Vespri avremo presenti qui con noi i nostri seminaristi con il loro Rettore. Il centro della giornata sarà la Messa domani alle ore 11, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Dandela Franconi, che è il Vescovo che ci ha chiamato e accolto in Diocesi. E al pomeriggio alle 5 ci saranno i Vespri. Suor Maria Celina, per chi volesse visitare la Chiesa, per chi volesse dire una preghiera, la Chiesa di San Sigismondo è sempre aperta? La Chiesa di San Sigismondo è aperta tutti i giorni. Noi al mattino, nei giorni feriali, abbiamo la Messa alle 7, ma un quarto alle 7 del mattino la Chiesa è già aperta. Rimane aperta tutto il giorno. Al pomeriggio la Chiesa rimane aperta fino all'ora dei Vespri alle 6. La Chiesa si chiude verso le 7, ma è aperta tutti i giorni, sia per i turisti, ma soprattutto per i fedeli che vogliono pregare.